Scusa Fabrizio, ma è inutile che noi facciamo questi speciali natalizi che poi mi combini di queste cose qua. Ma dove siamo andati a finire qua? Non si vede niente, c'è una nebbia pazzesca. Ma tu hai capito bene che ci sono delle pecore pronte per il presepe. Ma ci hai parlato a te. Ma ci ho parlato a te, ma la telefonata... Dove ti hanno detto che siamo in mezzo a un campo? Ma noi qua siamo in mezzo a un campo, ma non si vede niente, è tutto bianco. Come facciamo a fare il presepe se non abbiamo le pecore? Le pecore, l'asinello, insomma tutti questi animaletti qua. Fabrizio mi dici adesso dove ci troviamo? Io non ci capisco di niente, siamo in mezzo alla nebbia, in mezzo a un campo deserto. Aspetta un po'. Fabrizio, ma non senti anche tu? Sì, mi sembra di sentire qualcosa. È vero, senti, senti. Dai che Fabrizio, forse ci siamo. Forse riusciamo a trovare due o tre, non ne voglio tanto, due o tre pecore, due o tre agnellini. Fabrizio, guarda un po', Fabri. Ma vedi anche tu quello che vedo io? Sì. Ammazza, ma qui abbiamo la scelta per fare altro che presepi. Questo è il presepe vivente, guarda dove ci troviamo. Guarda abbiamo gli annellini piccolini, siamo proprio in mezzo, guardate, al Natale. Ma ciao, ma guardate, ma guardate che pelo. Buongiorno, buongiorno cari. Allora io mi trovo qui nella zona di Predosa, siamo vicino a Alessandria. E ho avuto la fortuna di imbattermi in questo meraviglioso greggio di pecore. Ma insieme a loro abbiamo anche diciamo i pastori. Pastori che al giorno d'oggi è difficile da trovare. Davide, quante pecore abbiamo qua? Ah, saranno circa 600. 600 pecore, quindi calcolando che per ogni presepe, quanto ce ne vuole tu che te ne intendi Fabrizio? 4 o 5. 4 o 5 e quanti presepi facciamo? Facciamo 100 presepi. Ma dimmi un po', la richiesta per fare i presepi viventi ne avrete una marea? Sì, qualche uno è venuto a cercarle. Qualche uno le abbiamo portate e aspettiamo il Natale. Ecco, aspettiamo il Natale. Noi siamo vicinissimi, siamo proprio nelle feste di Natale. Quindi voi queste pecore le tenete qui giusto perché avete fatto un po' di transumanza qua? Sì, abbiamo fatto la transumanza, stiamo arrivando in montagna, piano piano, veniamo giù nella pianura. Nella pianura quindi il vostro lavoro è prenderle tutte, spostarle di zona in zona per farle mangiare? Sì, trovare il pascolo. Tutti i giorni ti sposti, trovi il pascolo nuovo e le vesti stamberne. Ecco, tutti questi agnellini che vedo qua in mezzo a loro, nascono direttamente durante la vostra transumanza? Sì, sì, nascono nella transumanza. I primi giorni che non camminano li mettiamo sopra gli asini. O se no li mettiamo sopra il trailer e quando cominciano a camminare seguono le mamme. Ecco, quando loro non camminano vanno sugli altri. Io qua adesso però gli asini non li vedo. Oggi sono in festa. Gli asini oggi sono in festa, no? Gli asini li abbiamo portati in un recinto di un nostro amico che aveva da fare pulizia e ci ha chiesto se portavamo gli asini. Sì, perché poi diciamo che sono dei tagli a erba favolosi. Sì, sì, gli asini mangiano anche quella roba che non è tanto buona, invece la pecore è più selettiva nel mangiare. Ho visto tra di voi che ci sono tantissimi, siete giovani tutti quanti. Cosa vi è venuta questa voglia di buttarvi qui in questo lavoro? Che questo è veramente un lavoro perché siete al freddo tutto il giorno. Sì, ma perché giovani, giovani per il motivo che persone anziane non regano questa vita. Sempre al freddo, sempre fuori, dalla mattina alla sera e niente. Praticamente nel nostro paese questo lavoro qua è normale, lo fanno tutti. Lo fanno tanti, chi con le mucche e chi con le pecore. Più le mucche che le pecore però. Perché tu sei di? Noi siamo di Cuneo. Ah, di Cuneo. E dimmi un po', ascolta, io ho visto che ci sono anche i capi, che poi non sono tanto loro i capi, ma sono i cani, no? I cani che seguono tutto questo gregge. Quanti ne avete? Cani ne abbiamo cinque. Cinque. E voi dovete vedere perché sono veramente serissimi. Noi siamo arrivati, ci hanno un po' abbaiato ma non ci interessavamo. Loro si curano solo le pecore? Loro curano le pecore a comando. Facciamo un esempio, se c'è una coltivazione da una parte, il cane va e non lascia entrare le pecore nella coltivazione, le tiene dove incolto per non creare danno alle coltivazioni. Non è facile, come è fatto a far capire al cane? Qui non devono entrare loro. Ma i cani già hanno l'istinto e poi imparano dal figlio, imparano dalla mamma e avanti così, no? Però voi già insegnate al cane a seguire le pecore oppure già l'istinto loro quando sono grandi li seguono? Hanno l'istinto, vanno dietro, poi vanno dietro la mamma e imparano, un cane magari più vecchio, no? Imparano dal cane più anziano e dopo il cane più anziano va in pensione e il più giovane prende il posto. Speriamo che almeno loro la pensione la prendano. Ma dimmi un po', che razza di cane serve per riuscire a dominare questi gregi? Ma molti usano i border colli, noi invece abbiamo dei cani incrociati che ce li incrociamo tra di noi, tipo c'è un mio collega che ha un cane buono, io porto la mia cagna e facciamo l'incrocio, lui prende due cuccioli, ne prendo due e poi selezioniamo sempre i migliori, no? Beh, lo stesso esempio come il cane da tartufo, no? Che se lo prendano da uno all'altro perché quando il cane è buono è difficile, è anche molto pericoloso se poi perdi la razza, se non riesci a... Se perdi la genetica, se perdi la genetica poi dopo non... Tipo se gli dai un cane sbagliato i cagnolini non diventano bravi. Ecco, ecco. E quindi, parliamo di nascite, che si parla anche della nascita di Gesù Bambino, le nascite di queste pecore quante ne hai al giorno? Tre, quattro, cinque. Giornalmente? Giornalmente, ci sono stati dei periodi un mese fa che anche 15-16 al giorno e per fortuna che non pioveva allora non abbiamo tribulato, se capita che piove fai un po' più fatica. Sì perché qua è tutto all'aperto, quindi anche la nascita voi ve la fate nascere, voi ci state... No, le pecore non sono come le mucche, le pecore partoriscono praticamente da sole, è raro che ne aiuti qualche duna però la maggior parte partoriscono da sole, invece forse già le mucche devi aiutare, il parto è più difficile. Abbiamo degli anellini nati in questi giorni? Si è nato ieri. Ah, guarda, allora, piano piano, perché non vorrei che scappassi, muoviti piano piano, muoviti piano piano, guarda che meraviglia, guarda che meraviglia, eccolo lì. Guarda, già vicino alla sua mamma, che già la mamma mi guarda un po' storto. Guarda che bello che è, guarda qua è bello, vedi, riesci a riprenderlo Fabrizio? Guarda, eccolo lì. Questo, guarda che la mette subito sul chi va là. Ecco, vediamo che, vedete che hanno sia la mamma, ecco che cammina piano piano, sia la mamma che il piccolo hanno un segno giallo, perché? Perché, facciamo un esempio, è un codice, no? Come le mamme all'ospedale che gli danno per riconoscere il bambino, stessa cosa, no? Noi, ogni pecore che partorisce gli facciamo un numero, tipo un numero uno, corrisponde all'agnello con il numero uno sulla schiena, per riconoscere, perché quando ne nascono molti, dopo magari qualche volta puoi anche confonderti, invece se sono segnate le riconosci, no? Tipo la pecore segnata di verde e l'agnellino segnato di verde, no? Roba così. Ecco, infatti vedete quello lì al verde, insomma, qui è un lavorare, più che altro dovete marcarvi tutte quante, perché sono tutte marcate. Quando partoriscono, man mano che partoriscono le segniamo, si va da uno, facciamo un esempio, col colore rosso da uno fino a cento, poi si prende il colore verde da uno fino a cento, mamma e figlio, no? La mamma è il numero uno, il figlio è il numero uno, la mamma è il numero due, al figlio è il numero due, no? Ecco, per quanto invece riguarda la pelliccia, il pelo, cosa fate? Il pelo si tosano una volta all'anno, perché una volta si tosavano due volte, però adesso che la lana non vale più niente, le tosiamo solo più una volta all'anno, che è una spesa... Nemmeno più quella adesso. No, no, la lana non vale più niente, praticamente è una spesa abbastanza grande per tosarle, la lana si prende poco, allora la tosiamo solo più una volta, ma va bene lo stesso. Ma la lana cosa fate, poi viene buttata via, oppure viene data a qualcuno che la lavora, oppure niente? No, no, ci sono dei lanifici, però quello che ti danno della lana, prima te la pagano quando vogliono, e il prezzo che ti danno della lana non basta neanche a coprire la spesa della tosatura. Ma pensa un po', sì, perché poi si parla di non due pecore, ma tante, quindi è un lavoro continuo. Se spendi duemila euro a tosare le pecore, recuperi 800 euro, 700 euro di... Ma pensati. È un po' un problema per quello. Certo, certo, anche perché diciamo che abbiamo visto noi che la lana poi della pecora, io ho potuto provarla perché una sono riuscita a tosarla con difficoltà, non vi dico, ci ho messo mezza giornata. Ecco, adesso cosa sta succedendo? Niente, i ragazzi hanno... Guarda, riprendi pure di lì che... Eccoli qua. A se l'andare, Rinella, a se l'andare! Guarda quando partono, guarda che è bellissimo, bellissimo, scene fantastiche. Diciamo, la lana è molto oleosa, no? Quindi ti ritrovi le mani completamente... Diceva, a volte si diceva che andava bene per i dolori, tipo specialmente la lana più grassa, si facevano degli impacchi sul... Se avevi dei dolori, dei romatismi, roba del genere, dicono che faceva passare. Mia nonna diceva così, però io non... Ah, beh, beh, se gli anziani dicono così, è così, eh. Quindi si veniva messa sopra alla parte che... Sì, tipo degli impacchi, no? Si mette la lana, poi magari una fasciatura, no? Con questa lana grassa, e lì si teneva caldo e dovrebbe passare il dolore. Così si dice. Allora facciamo una pubblicità, dunque, se volete, della lana per farvi passare i dolori, guardate qui, ne avete una marea. Ecco, avete visto che sono partiti tutti di corsa? Perché hanno levato la recinzione che... Voi mettete questa recinzione, giusto per proteggere e tenere lì vicino, è una recinzione elettrica. È una recinzione elettrica che le mettiamo la sera per passare la notte, così siamo tranquilli. Una volta non c'erano, si stava uno di guardia, invece così, con questa recinzione è comoda. Di notte sei tranquillo, loro non escono. E loro con tutto questo pelo che hanno addosso riescono a sentire la corrente? Sentono ancora... sentono l'elettrica? E quando hanno tanta lana magari no, però sulle parti bassi, tipo sulle gambe, così che il pelo è fine... Lo sentono. Ma poi sono abituati da piccoli a sentire la corrente e loro hanno paura, non ci vanno neanche vicino. Pensa un po' che intelligenza che hanno. La vostra vita, che è una vita dura, perché è freddo, caldo, sempre fuori da casa. È dura le prime settimane, dopo ci fai il callo vai. Ah sì, basta così. O dopo vai. I primi giorni, quando comincia a far freddo l'autunno, magari le prime sere comincia a far freddo, lo senti un po' di più quando piove, ma se no dopo vai. E poi ci vuole la passione, perché se non c'è quello... È un mestiere che lo fai solo per la passione, se no non lo fai. Perché pensate, si parla sempre anche di uva, si parla di allevamenti, anche questi allevamenti non rendono quanto dovrebbero rendere per il lavoro che hanno dietro. Sì, diciamo che con i sacrifici che c'è bisognerebbe guadagnare di più, però ci accontentiamo, cosa dobbiamo fare. Tanto ormai ci siamo messi su questa strada. Ormai io per esempio ho 30 anni, 32, ormai non posso più incominciare un altro mestiere. È una fregatura, perché quando lo cominci poi non smetti più. E la cosa poi bellissima è proprio stare in mezzo a questi animali, che bene o male, guardate, adesso li guarda, ci sono due che t'hanno visto e si litigano, vogliono essere ripresi, li vedi? Questa è proprio la lotta, ogni tanto succede questo? Sì, secondo me giocano. Facciamo un esempio, ce n'è una che è sempre la più forte, no? E ogni tanto per ristabilire la gerarchia si... Vuole fare il dominio. Sì, ad esempio se ne porti una nuova, ne trovi una che ti piace, la compri, la porti qua, allora per un po' giocano così con le corna per vedere chi è la più forte e dopo c'è una gerarchia, diciamo, no? Eh, se l'accettano o non l'accettano nel brand. Sì, la più forte va davanti e le altre la seguono, una roba del genere. Mentre con voi i formaggi qui non ne fate? Siamo un po' in montagna, adesso è un quale scomodo perché non siamo attrezzati qua, sempre fuori così, spostandosi è difficile, invece in montagna c'è la casa, c'è la stalla, riesci a mungere, riesci a fare qualcosa. Perché dicono che il formaggio sia di piccolo che di capra sia ottimo, soprattutto anche per la salute dei bambini. Sì, è ottimo, dicono che è ottimo. Per quanto riguarda il latte? Il latte lo mangiano gli agnellini. Ah, quindi è una produzione continua? Sì, l'agnello partorisce, l'agnello succhia al latte e invece quello che partoriscono d'estate riesce a fregargliene un po'. A prendercene un po'. Così per alimentarvi anche voi. No, comunque è bellissimo, pensate, noi siamo in una zona qua vicino all'Alessandrino, dove questi campi, non so se l'hai ripresa di Fabrizio, mangiano più di te queste pecore qua, cioè rasano completamente. E loro puliscono. Quindi voi chiedete il campo a questi agricoltori e loro ve lo concedono per tagliare l'ergo? Sì, anche perché sono campi incolti, non è che si pascola dove c'è il grano, dove c'è delle coltivazioni, si pascola dove è prato, che d'inverno il prato è una stagione morta, o nelle stoppe che hanno lasciato ad arrare, che le arreranno in primavera, roba così, roba incolta. Se ci viene la pecora, pascola l'erba, però la pecora quello che pascola te lo lascia, perché dove dorme lascia il letame, che è naturale. E nei campi dove ci sono le erbacce, la pecora pulisce, pulendo evitano di mettere i diserbanti, evitano di inquinare. Dal mio punto di vista è una cosa positiva. E c'è, ma è capitato invece di trovare in campi dove poi vedi che le pecore non stanno bene perché magari hanno mangiato diserbanti? È capitato diverse volte, perché ci sono delle volte che magari arrivi in una stoppia che ce le sterano. Loro le chiamano erbacce, per noi è il pane delle nostre pecore. Allora il contadino magari non sa che arrivi o preferisce che non passi perché magari la pecora dove passa, magari c'è un fosso, lo riempie, lo rovina. Allora cosa fa? Dai il diserbante, però non ci mette un cartello che ha dato il diserbante. Tu inconsapevole arrivi, porti le pecore a pascolare e il giorno dopo hai dei problemi che non finiscono più. È capitato. È capitato a me, è capitato ai miei colleghi. Cosa può essere una cosa cattiva che vi possono fare? Che hanno l'erba, che il contadino ha l'erba, che non se ne fa niente perché d'inverno non se ne fa niente, però piuttosto che lasciartela, lascia lì a marcire o la trincia, spende il gasolio, anche lì, spende il gasolio, fa il lavoro, inquina perché con il trattore inquina. C'errebbero le pecore che è naturale che vanno a pascolare l'erba e non fanno nessun danno. Però piuttosto che hanno paura magari che ti regalano l'erba, hanno paura che ti arricchisci con un tappo di erba che mangiano le pecore, allora piuttosto vanno col trattore e la trinciano. Questa è più che cattivera e ignoranza. Perchè perdono mezza giornata di lavoro sul suo trattore, gasolio, avanti e indietro. Lavorano? Sì, sì. Che avrebbero il lavoro gratis. Ma capita tante volte. Ma io vi posso dire invece una cosa che anche voi l'avrete notato su Facebook, nelle zone nostre, chi ha il collegamento su Facebook, avete avuto tantissimi, veramente mi piace e tanti complimenti. Da tutta gente che è all'infuori dell'agricoltura. Sì, gente che ama gli animali, gente che... Non c'è contadini che mi sono venuto a dire, guarda sei andato su Facebook, vieni a far scolarmi il prato. No, non c'è. Sei tu che devi muoverti a cercare i porti. Sì, noi cerchiamo, andiamo avanti. Ma la cosa bella è che veramente amano la natura e con la natura noi ci siamo entrati, ci siamo adentrati in questo periodo natalizio, soprattutto perché quando tu passi e vedi questo greggio enorme ti si apre il cuore, perché ormai se ne vede più pochi, soprattutto nei nostri posti. Poi quest'estate dove vi porterete? Andiamo a Sestrier, a Bragelato, prima di Sestrier via. Quindi andate in alto? Sì, sì, andiamo in montagna al mese di maggio. Tu l'estate lo senti poco? Il caldo? Ma no, il caldo non è che ci crea questi gran problemi, neanche le zanzare per dire. Ah beh, quello di sì, che qua invece purtroppo non abbiamo. Scusa, ma sono curioso di una cosa, ma gli animalisti, quando vedono che voi siete qua in mezzo al freddo, come Gesù Bambino, in mezzo al freddo, al gelo e con l'acqua e la neve, non dicano nulla, non pensano che questi animali possono tribolare, avere delle sofferenze? Qualche volta capita perché la gente sono incompetenti, quello è il problema, perché non sanno, non capiscono. Vedono un animale fuori, pensano che l'animale abbia freddo. L'animale è attrezzato per l'inverno, perché sono animali nati fuori, sono come i camoci, sono come tutti gli animali selvatici. Sono animali nati fuori, vivono fuori. Tu vuoi dire che secondo, cioè, per te stanno molto meglio quando è freddo, perché sono animali che sono abituati a vivere fuori, che chiuderli dentro un recinto di una stalla? Certamente. Questi animali, qualche volta può capitare che ne venda qualcuno a qualche persona, li mettono dentro la stalla, vai a rivederli dopo sei mesi. Gli animali sono distrutti per il motivo che quest'animale qua in stalla, è come essere in prigione. Primo, perché hanno la lana, hanno la lana, trassudano, stanno male, prendono la polmonite. Questi animali qua, se vuoi tenerli bene, se vuoi far stare bene l'animale, devi tenerlo fuori. Non interessa se piove o se nevica. Si può fare un esempio. Se lei compra una pecro, la mette in un recinto che abbia un ricovero, quando piove, quando nevica, l'animale nel ricovero non lo vedrai mai. L'animale sta sempre fuori. È vero o non è vero? È vero, è vero. Quindi, ecco, bene, così abbiamo avvertito anche gli animalisti. Se vedete questo greggio, perché ti è già capitato? Questo o anche un altro greggio. Questi animali sono abituati fuori. Questi animali, se li metti in stalla, gli fai un dispiacere, come noi, metterci in galera. Questi animali devono stare fuori sempre. Quando li metti in stalla, tu gli fai un male. Tu gli fai del male. Questi animali non sentono la neve, non sentono il freddo. Logicamente che devono mangiare. Se hanno la pancia piena, affrontano bene l'inverno. Se hanno la pancia vuota, soffrono come anche le persone. Quello succede anche al nostro cameraman, sai? Sì, sì, anche a favorito. Quello che è magro così. Dicevo, ma come mai stanno così in silenzio che di solito si sentono sempre fortissimo? Sono belle tranquille queste? Perché stanno mangiando. Ah, quando mangiamo? Quando mangiamo stiamo in silenzio. No, loro belano, magari di sera, quando le portano al recinto, perché la mamma cerca il figlio. Allora si sentono dal richiamo, no? La mamma fa beh e il figlio risponde. Ecco, tra di loro si cercano. Invece mentre mangiano stanno in silenzio. Ho visto che non solo pecore, ma cosa hai altre? Pecore e poi ci sono delle capre molto grandi. Ci sono delle capre perché la capra serve da baglia. Magari se c'è una pecora che partorisce due agnelli ha poco latte, per tutti e due, uno lo prende e glielo fai adottare la capra, che è la capra più latte. E lei lo accetta? Tante volte sì. Oh, bene, questa qua è una cosa che non si sapeva. Quindi è un aiuto alla pecora, però sono molto meno loro. Sì, sono una trentina. Poi anche perché servono che ti seguono sulla strada quando devi spostarti, la capra ti segue di più. Quindi loro seguono poi la capra? Praticamente fanno il stand avanti e le pecore seguono dove vanno le capre, no? La capra segue te e le pecore seguono la capra. Ho capito? Ho capito. No, no, guardavo perché laggiù in fondo vedevo che ci sono alcuni gruppi che si fanno proprio il loro gruppo, mangiano per loro. Poi ci sono anche i singoli che si dividono uno con l'altro. Saranno come le persone che... Magari uno quello lì dice io lì in mezzo non ci va. Quello lì mi sta antipatico, non la metterò da una parte. Quindi dai, io non so più. Fabrizio, sei contento che abbiamo trovato tutti gli animali per il nostro pesce? Ci mancherebbe il bue, ma Massimo ci metto te. Siamo noi. Siamo noi. E l'asino, l'asino che è staccato. L'asino che mi metto io stavolta io. Beh, allora guarda, io ti ringraziamo intanto se vuoi fare gli auguri a tutto il nostro pubblico perché tanti bimbi sono collegati con noi e oggi l'avremmo fatto felice a prevedere questa bellissima... Speriamo di sì, speriamo di sì. Comunque tanti auguri e buon Natale. Voi dove lo passate il Natale? Ma con le pecore. Anche il Natale. Magari faremo un giorno per uno andare a casa a trovare la famiglia. Ecco, questo è importante perché dovete sapere che voi a casa quando ci andate? Andiamo a quando possiamo. Se il tempo è bello magari si va una volta in due settimane, se il tempo è brutto non riesce ad andare a casa. E quindi rimanete qua e la famiglia, niente, vi sentite grazie ai telefonini? Non c'erano i telefonini era un problema, adesso con i telefonini chi si sente non neanche... L'importante è che non capiti niente. E comunque è un lavoro di sacrificio. Sarà bello ma è sacrificante soprattutto per chi poi è a casa che aspetta. Sì, per carità, però ormai c'è l'abitudine, ormai la normalità così, no? Non vedersi, di vedersi una volta ogni tanto e non pesa più. Ebbene, dai. Allora, tanti auguri a tutti quanti voi, tanti auguri anche da parte di tutta la redazione. Auguri da Fabrizio, il nostro cameraman, che adesso è preso. Aveva un po' paura quando siamo arrivati perché dice questi cani miazzano. Invece loro con l'uomo non ci fanno nulla. Purtroppo no. Come purtroppo no? No, bisogna avere dei cani più buoni da guardia. Perché delle volte ti spariscono anche delle pecole. Sì, è successo anche in grandi quantità. Ma dai! Sì, però succede perché delle volte non trovi gente a lavorare. Ora prendi qualcuno che non conosci, non sai che conoscenze hai e poi ti fanno qualche scherzetto. Può capitare. È capitato a diversi miei colleghi anche. Chiamiamolo scherzetto. Quindi anche vedete che in tutti i campi c'è sempre il pro e c'è il contro. Qui è bello per la natura, però il contro che deve sempre avere un occhio a tutto il gregge. Perché può succedere anche questo. Fabrizio, dai, allora andiamo a farci il nostro presempio. Cosa dici? Siamo. Ci prendiamo due o tre pecaro e noi andiamo, con voi ci vediamo il prossimo servizio realizzato nei nostri studi per passare un Natale insieme all'insegna del divertimento, dell'allegria, ma soprattutto per tanti auguri di un buon Natale e un buon anno a tutti quelli che ci seguono per tutto l'anno a venire. Grazie, grazie a te, ciao, buon lavoro e con voi ci vediamo al prossimo speciale. Ciao Fabrizio, andiamo, dai su, che dobbiamo fare il presempio, dai, brigati, su, deuma. Grazie a te, ciao. Grazie a tutti.